Benvenuti a Scemology, l'unico programma in grado di svegliare i misteri. In questa puntata, se il fantasma si toglie il lenzuolo, rimane in mutande? Se la luna è piena, non ne può più? E ancora, il triangolo delle Bermude ha il pelo? Tutto questo ed altro ancora in questa puntata. Continuiamo a parlare di universo, di spazio. Andremo alla scoperta del sole. Il sole, quando è malato, si prova la febbre con mercurio? Da come si vede dal mio marsupio, che sono stato in Egitto, si vede dal souvenir, veni su. State attenti. Torniamo ad occuparci di misteri. Torniamo ad occuparci di casi sensazionali. Infatti, sionale non c'era. L'anatra è un quadrupede se fa qua qua? E ancora, l'oietti dorme in un sacco a pelo? Proseguiamo con i misteri. Andiamo a scoprire. Lo struzzo, mette la testa sotto la sabbia per vedere i film porno delle talpe? L'accaro, può essere allergico alla polvere? Se la vipera si dà un morso nella lingua, muore? Tutti i misteri meglio interpretabili noi li svegliamo, perché noi abbiamo la verità in tasca. Grazie a tutti.